Riqualificazione urbana. Il progetto presentato dall'amministrazione comunale Mauri non convince il PD. La riqualificazione del centro cittadino, che sarebbe stata prevista solo per intercettare fondi regionali, è stato motivo di aspre polemiche e di scontri tra maggioranza e opposizione. Io ricordo che in occasione della presentazione del progetto, che in pratica si chiedeva in quell'occasione di condividere un progetto, peraltro già approvato. Quella che l'amministrazione Mauri ha definito una proposta, in realtà è un progetto preliminare, perché la delibera con la quale è stato approvato il progetto è del 9 settembre. La riunione è stata fatta il 16. Ora, discutere su una proposta, quando è stata già espressa la volontà dell'amministrazione di approvare quella proposta, è sembrata una cosa un po' forzata. In realtà io non sono entrato nel merito del progetto, e non è il caso di entrare nel merito del progetto per ovvi motivi. Ma quello che si discute è il metodo. Cioè, se noi vogliamo fare un confronto sull'idea migliore per risolvere un determinato problema della città, che ci si confronti attraverso il sistema del concorso di idee. Se invece l'amministrazione ha già un'idea in quanto ha approvato un progetto, il confronto è forzato. Voglio dire, è una condivisione, nel senso che dobbiamo condividere il progetto, non possiamo fare altro. Questo era il mio invito. È sembrato una forzatura perché sono stato accusato di non fare proposte. Ma la proposta è stata già approvata. Noi non possiamo portare... Cioè, che cosa potremmo dire? Di migliorare un'idea di una città che è già stata approvata, è già concretizzata. La provocazione, se così la vogliamo chiamare, era sulla opportunità di rincorrere i finanziamenti. Cioè, io mi ripeto, ma il progetto serve per risolvere dei problemi. Cioè, progettare un intervento sul territorio è un'attività che si fa per risolvere dei problemi di quella porzione di territorio. Se noi invece facciamo i progetti per rincorrere i finanziamenti, perdiamo di vista l'obiettivo principale, che è appunto quello della risoluzione dei problemi, che sono poi i bisogni dei cittadini. La sensazione è quella che ci sia una scarsa visione del futuro della città. Cosimo Ferraioli pone l'accento anche sul giallo della demolizione di un fabbricato, un'azione prevista dal progetto di riqualificazione urbana, che lascia tuttavia perplesso lo stesso Ferraioli. È opportuno rimarcare questo aspetto, che peraltro sarà oggetto di interrogazione consigliare, e lo anticipiamo. Questo progetto prevede la demolizione di un fabbricato che è stato oggetto di due delibere di giunta per la ristrutturazione del fabbricato stesso, poiché le delibere di giunta sono di giugno e il progetto è di settembre. Io mi chiedo, ma era in previsione che a settembre si sarebbe approvato un progetto che demoliva quei fabbricati? Allora perché si è pensato di spendere a giugno questi soldi? Significa semplicemente che le idee, come al solito, sono poche e confusse. Cioè l'amministrazione non sa come pianificare il futuro di questa città e quindi va avanti per tentativa appunto, rincorrendo il finanziamento. L'idea sarebbe quella di avere le idee chiare sull'assetto urbanistico della città e poi casomai fare i progetti per i finanziamenti. In genere così funziona. Però capisco anche che se c'è l'esigenza di rincorrere un finanziamento che si provveda. Ma perché proprio quell'intervento? E non un altro, per esempio, questi famosi parcheggi di cui si parla ma che non se ne vede l'ombra. Se l'amministrazione dice che ci sono, ma a noi ci sono i progetti, che ce li faccia vedere noi ne diamo atto. A noi non può fare che piacere. Tutti colori quali non sono allineati con questo bisogno della città, che ognuno deve, o dovete su voi, sta fuori uno sistema. Chi sta fuori uno sistema significa che verrà attivare tutta una serie di meccanismi per fare mostro a tutelare l'interesse dei cittadini. Perché i cittadini non possono pagare già le tasse, quindi pagano già un dolore allo stomaco e vorrebbero un servizio quanto più a misura della città.